Grazie 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 Un sorriso Team 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 Riti Team Oh guarda Metto Team Un saluto Lei o come si dice un saluto? Lei si manda via subito No hai detto Applausi 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 Guardate il palazzo, il palazzo è di passare. Mike! Grazie. Mike, perciò. Perché quello che può fare, Mike? Beh, devi realizzare una signata! ...dia, perché... ...dia, perché lo posso piegare al giorno... ...dia, perché lo dobbiamo pagare il palazzo. Mike, bello. grazie Elena grazie Elena Elena Genesco è eccellente Elena parlate con me Elena 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 Elena, por favor ti domani grazie team grazie team